Vorrei iniziare dicendo di non farvi trarre in inganno per la rally, in realtà non è un rally vero e proprio in quanto è una manifestazione non competitiva, è una passeggiata turistica senza cronometro dove i partecipanti con le proprie moto seguiranno il percorso che parte dalla Pala di Pomodoro autonomamente seguendo la traccia sul proprio navigatore. Quindi non è un gruppo di moto che viaggia insieme ma sono tante persone che viaggiano individualmente alla fine, partireanno due moto ogni 30 secondi sempre appunto dalla Pala del Lungomare qui a Pesaro e il percorso si inoltra nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino. Infatti lo scopo del nostro motoclub Riding Marche è proprio quello di promuovere l'entroterra della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche. Ecco, ad oggi quanti sono i partecipanti a questo evento? Come primo evento ricordo che questa è la prima edizione, siamo molto soddisfatti perché è avuto un grande successo, abbiamo circa 140 partecipanti che provengono da tutta l'Italia, quindi dalla Sicilia, dalla Sardegna, tutta l'Italia, è stata una grande soddisfazione. Ecco, dunque l'appuntamento con la partenza qual è? Allora, venerdì 22 è previsto l'arrivo dei partecipanti e al paddock, alla Palla, sarà possibile tramite la concessionaria Yamaha D&G Motorsport provare i nuovi Yamaha Tenerè, poi ci saranno altri sponsor come Garmin, come Prototype Team che fanno accessori, come Anlas che producono pneumatici da fuoristrada. E quindi, diciamo, non solo i partecipanti ma tutti i pesaresi potranno venire al paddock e magari provare le moto e interagire con gli sponsors. Il sabato mattina c'è la partenza della prima giornata e dopodiché si ritorna, diciamo, alla Palla a fine giornata e la domenica mattina c'è la partenza sempre dalla Palla della seconda giornata, con rientro sempre alla Palla del pomeriggio.